Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi Salerno. Una cerimonia religiosa in onore di Santa Barbara, protettrice dei lavori che si occupano di scavi all'ingresso di una delle gallerie del cantiere Porta Ovest in via Ligea di Salerno per annunciare la convenzione che sarà stipulata tra autorità portuale di Salerno e autostrade meridiorari. Sarà lo snodo, sarà lo sbocco dei lavori e presto saranno una realtà. L'ha annunciato questa mattina il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha parlato di tempi brevi, strettissimi, praticamente entro primavera. Una convenzione tra autorità portuale e autostrade meridionali che sarà sottoscritta a breve consentirà di completare in tempi rapidi l'ultimo tratto di galleria che collega il valore cernichiare via Ligea a Salerno, tra il porto commerciale e lo svincolo autostradale. Insomma, l'ho annunciato stamani con orgoglio il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, presente sul cantiere in occasione dei festeggiamenti per Santa Barbara. In tal caso sarà anche possibile l'utilizzo di microcariche rispetto al tradizionale metodo di trivellazione che consentirebbe di dimezzare così i tempi di realizzazione degli ultimi 1189 metri di scavo. Il governatore si è spinto oltre parlando delle grandi opere strutturali in corso d'opera a Salerno ed anche dell'ipotesi di trasformare il viadotto Gatto in una sorta di giardino pensile o in una mostra permanente per ospitare opere di artisti contemporanei. Presidente, le grandi opere vanno avanti, le interferenze vengono risolte? Mi auguro di sì, è una delle grandi opere strategiche che abbiamo progettato per la città di Salerno. Porta Est, Porta Ovest, Trincerone Ferroviario e completamento della Lungo Irno. La Lungo Irno l'abbiamo completata negli anni passati, il Trincerone attendiamo di chiudere il cantiere a Via Diaz, Porta Est abbiamo raddoppiato la viabilità sulla litorania orientale, e manca l'appello Porta Ovest, cioè le gallerie e i tunnel per collegare direttamente il traffico portuale con l'autostrada. È un'opera complessa, siamo stati sfortunati come in tante grandi opere. Il cantiere si è interrotto per problemi relativi all'impresa che ha vinto la gara il 2013, è subentrato con un fitto d'azienda un consorzio a Rechi che ha rilevato il cantiere. Abbiamo la possibilità di chiudere quest'opera per primavera del prossimo anno, se lavoriamo con intensità e senza disturbi particolari. È un'opera strategica che serve a spostare tutto il traffico portuale in galleria, liberiamo dalle pesantezze che si determinano l'imbocco dell'autostrada venendo dal Carmine e da Via Risorgimento. Abbiamo la possibilità di dare una nuova qualità urbana alla città di Salerno, oltre che lavoro per una sessantina di operai. La regione ha finanziato per altri 60 milioni di euro la parte terminale di quest'opera. Abbiamo reperito altre risorse perché non è ancora risolto il problema delle interferenze fra il traffico che viene dal tunnel e il traffico dell'autostrada sud. Dobbiamo risolvere queste interferenze, ripeto, la regione mette a disposizione tutte le risorse necessarie. Se troviamo una soluzione tecnica davvero abbiamo risolto tutti i problemi di viabilità della città. La convenzione che ha annunciato può essere la stura perché con le microcariche si risolvono i problemi degli ultimi 500-600 metri di scavo in sei mesi contro oltre un anno. È del tutto evidente che abbiamo soluzioni tecniche di assoluta sicurezza. È chiaro a tutti che la sicurezza sarà il vincolo assoluto per completare quest'opera. Da questo punto di vista non ci sono problemi. Se ci muoveremo come ci si muove in tutti i cantieri del mondo, rapidamente noi chiudiamo davvero in tempi brevi di mesi un'opera di valore straordinario. Presidente, sulle infrastrutture, insomma, è la conferma che la regione è attenta a tutto il territorio, molto spesso sopperisce anche a quelle che sono altre assenze. Lei l'ha detto anche in occasione della recente visita del ministro De Micheli a Napoli. Ha citato una serie di opere strategiche, chiaramente quella di Porta Ovest per Salerno, ma ce ne sono tante altre ancora in campagna che attendono di essere ultimate, completate e in alcuni casi anche finanziate. Per quello che riguarda Salerno, ovviamente la città è fortunata. Io non ho avuto di queste fortune negli anni passati. Finanziamo tutto il fronte di mare. Credo che parta a breve il cantiere per fare la spiaggia fino al polo nautico, quindi arriviamo già a Pastena. Poi dobbiamo completare la realizzazione della spiaggia fino a Santa Teresa, fino al centro storico. Il progetto prevede la realizzazione di una spiaggia di 80-100 metri dal centro storico di Salerno fino a Ponte Cagnano. Questo significa cambiare il destino produttivo della città, creare un'economia del mare, della balneazione. Poi ovviamente proseguiamo con altri finanziamenti importanti. Il sistema aeroportuale unico che abbiamo realizzato, Capodichino, Salerno, Costa Amalfi, prevede altri 240 milioni di euro di investimenti. Qui ci rimettiamo altri 60-80 milioni di euro per consentire una fluidità del traffico pesante dal porto direttamente nei caselli autostradari. Dunque questo lavoro va avanti. È andata benissimo per la lungo irno. Nel senso che abbiamo trovato un'impresa straordinaria che non ha avuto problemi. Pensate che abbiamo fatto un tunnel all'altezza del Grand Hotel Salerno, lì a Torrione, un tunnel di 70 metri di larghezza con il traffico ferroviario in attività. Quindi veramente un'opera complessa, ma realizzata davvero in tempi rapidi. Ci auguriamo che il consorzio che è subentrato abbia gli stessi tempi di realizzazione dell'impresa che ha realizzato la lungo irno. Ci attendiamo di chiudere solo il cantiere del Trincerone all'altezza di Via Diaz. È rimasto un po' appeso, contenziosi con l'impresa. È un calvario. Ma lì l'opera è completa al 95% e sarà un'altra realizzazione importante per la viabilità. E sul cantiere di Porta Ovest questa mattina in Via Ligea Salerno c'erano, abbiamo visto già dalle immagini, tra gli altri anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e Francesco Messineo, l'ingegnere Francesco Messineo, segretario generale dell'autorità di sistema portuale del Martirreno Centrale. Ascoltiamo. Passo dopo passo si va ultimando quel progetto di armatura urbana che era nei nostri progetti e nei progetti del Presidente De Luca. Un'armatura urbana che si sostanzia di un aspetto fondamentale che è la galleria Porta Ovest che lega il nostro porto con i piazzali autostradali con una ricaduta logistica formidabile. La Porta Ovest, ero qui con l'assessore De Maio che è l'assessore alla mobilità, dà uno sbocco al nostro porto commerciale che come è noto non c'è il retroporto per le scelte localizzative che furono fatti lo tempore. In questo modo noi offriamo la possibilità ad incrementare i commerci e i traffici del nostro porto che grazie alla famiglia portuale e adonta delle dimensioni limitate riesce a movimentare carichi importanti di merci, facendo in modo che queste merci possano trasferirsi direttamente in autostrada con delle opere che la Regione Campania, Presidente De Luca, ha in animo di finanziare allo sbocco della galleria. Quindi vedete con Porta Ovest, Porta Est, la lungo Irno, gli aspetti relativi alla metropolitana che arriverà fino a Fisciano e a Ponte Cagnano, l'aeroporto di Ponte Cagnano, l'escavo che faremo davanti alla stazione maritima, insomma c'è tutto un sistema coordinato di opere che farà dare un ulteriore sbocco e un ulteriore impulso alla crescita economica della nostra città. Signore Messineo, in nove mesi il Consorzio Estabile Arecchi ha realizzato 908 metri di galleria, resta quasi ancora un chilometro, il Presidente della Regione accennava anche ad una serie di problemi legati alle interferenze, insomma cosa resta da fare per Porta Ovest, soprattutto alla luce anche della convenzione con autostrade meridionali che in qualche modo accelera tutto il processo? Sì, è evidente che poter finalmente lavorare anche sui fronti di Via Leggea consenterà un raddoppio della velocità di avanzamento delle gallerie e questo logicamente ci fa essere ottimisti sulla conclusione positiva del lavoro. La Regione ha avuto un ruolo importantissimo per trovare questa sintesi che da troppi mesi faticavamo a definire insieme al Ministero e insieme al Concessionario Stradale e quindi siamo molto contenti di questo importante sviluppo. In occasione della festività di Santa Barbara il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno ha tenuto questa mattina le celebrazioni per la Santa Patrona, prima la cerimonia in caserma a Sant'Eustatio, poi la messa insieme alla Capitaneria di Porto di Salerno ufficiata da Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Andrea Bellani. La Regione ha avuto un ruolo importantissimo per la Santa Patrona, Il rituale dell'alza bandiera presso il monumento ai caduti all'interno della sede centrale della caserma di Sant'Eustatio lo schieramento nel piazzale ha colto il passaggio del neocomandante dei caschi rossi Rosa dell'Iseo. Si è aperta così la mattinata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno che con la parata, una squadra dei Vigili del Fuoco che si è calata e imbracata dalla torre di controllo per srotolare la bandiera tricolore, come ogni anno nel solco di una consolidata e sentita tradizione hanno onorato la loro protettrice patrona Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare. La si festeggia il 4 dicembre perché in questa data nel 306 morì martire e torturata secondo la leggenda con il fuoco dopo essere stata rinchiusa in una torre dal padre che non voleva si consacrasse a Dio. E' stata anche invocata contro saette ed esplosioni, il motivo? Un fulmine colpì il suo carnifice, il padre che non accettava la sua conversione al cristianesimo e per questo la uccise. E per questo viene invocata contro la morte improvvisa per fuoco, contro i fulmini e le esplosioni. Esplosivi e armi vengono tenuti in depositi che si chiamano non a caso Santa Barbara e la patrona di artificieri, vigili del fuoco, minatori, marinai, artiglieri, architetti, ingegneri ambientali, muratori, campanari e ombrellai. Una giornata di devozione e celebrazione per i pompieri e per gli uomini della Capitaneria di Porto di Salerno che questa mattina insieme hanno partecipato alla funzione religiosa, alla Santa Messa, celebrata come ormai da tradizione ogni anno alla Chiesa dell'Annunziata di Salerno. Una prima volta per la ricorrenza e la cerimonia di Santa Barbara a Salerno per tutti, per il neocomandante della Capitaneria di Porto di Salerno, il capitano di Vascello Daniele Di Guardo, il neocomandante dei vigili del fuoco, Rosa Deliseo e per il vescovo, Monsignor Andrea Bellandi che stamani ha ufficiato la Santa Messa per la festa di Santa Barbara. La mia prima Santa Barbara è un momento appunto di riflessione, di incontro e di pensiero anche verso i nostri colleghi che non ci sono più e verso coloro che nei mari di tutto il mondo, nelle basi navali e nei teatri operativi festeggiano e celebrano questa giornata. È un giorno importantissimo anche perché è l'occasione per chiedere a Santa Barbara di proteggerci da tutti gli eventi che possono incorrere durante l'attività che noi svolgiamo. Un'attività pericolosa ma fatta con grande passione e grande determinazione da parte di tutti i vigili del fuoco e anche dei vigili del fuoco di Salerno di cui mi onoro rappresentare il comando veramente con grande piacere. Uomini straordinari che quotidianamente si impegnano nell'attività lavorativa. Queste sono due realtà che sono sempre state e sono vicini alle persone, alla loro vita quotidiana e alle loro necessità, quindi è giusto essere presenti in questa festa che per loro è molto importante e direi a cui tengono molto. Un momento spirituale, un momento liturgico è cominciato proprio domenica scorsa, il nuovo anno liturgico. Sì, siamo in questo inizio di avvento e la lettera che il Papa ha mandato sul presepio ci ricorda anche qui di tornare all'essenziale, ritrovare i veri valori del Natale che sono in questa realtà familiare di Gesù che con Maria e Giuseppe entra nel mondo. La cronaca, ci spostiamo nel Cilento. Un incendio di vaste proporzioni si è verificato ieri a Capaccio Scalo. Le fiamme hanno avvolto un negozio di fiori e il deposito dell'attività. Per fortuna nessun ferito né intossicato, ma i danni registrati alla struttura sono ingenti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Ebole, anche carabinieri e polizia. Si è sgomberato a livello precauzionale anche un palazzo vicino. Paura in pieno centro urbano a Capaccio Pestum. Ieri sera, intorno alle ore 19.30, un vasto incendio si è sviluppato all'interno del noto negozio di fiori The Flower Shop di Giovanna Marino, sito lungo il centralissimo viale della Repubblica. Sul posto sono giunte tempestivamente tre autobotti dei vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, coordinati dai capi squadra Luigi Pagano e Gabriele Coviello. I carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, agli ordini del maresciallo Giuseppe D'Agostino. I agenti della polizia municipale, diretti dal Maggiore Natale Carotenuto, e i volontari del locale nucleo di protezione civile, guidati dal responsabile Tonino Merola. Secondo i primi accertamenti, le fiamme sono divampate dal deposito, sito al piano inferiore dello stabile, fino ad avvolgere progressivamente tutto il negozio, costringendo all'evacuazione residenti, titolari e clienti di un vicino pub. Dai primi rilievi ad innescare il rogo sarebbe stato un cortocircuito. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati, ma solo ingenti danni all'attività commerciale, tra le più conosciute e storiche del settore nella città dei Templi. I carabinieri della stazione di Ponte Caniano-Faiano, con il supporto aereo del settimo nucleo elicotteri carabinieri, hanno arrestato in flagranza di reato il 31NDR, pregiudicato del luogo nulla facente. A seguito di una perquisizione avvenuta nei pressi del suo domicilio, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 350 grammi di marijuana, già essiccate quattro lampade alogene utilizzate per la coltivazione indoor, rinvenute anche 44 schede SIM del gestore Lica Mobile. Ancora cronaca, stava salendo a bordo di un convoglio alla stazione di Salerno, l'uomo che l'altro giorno si è reso responsabile dell'accoltellamento ai danni di un pensionato a Nocera Inferiore, a pochi passi dall'ufficio postale dove stava prelevando la pensione. È stato arrestato dalla polizia. È stato arrestato Antonio Baldo, l'uomo di 57 anni che lunedì mattina in via Siniscalchi a Nocera Inferiore aveva inferto tre fendenti al suo vicino di casa. Era in fuga da due giorni. Questa mattina è stato intercettato alla stazione ferroviaria di Nocera Inferiore mentre stava salendo su un treno diretto a Salerno. Gli agenti sono arrivati pochi secondi dopo che il convoglio fosse partito. È entrata in azione la polizia ferroviaria che lo ha bloccato alla stazione di Salerno. È stato preso in consegna dagli agenti del commisariato di polizia di Nocera, diretto dal vicequestore Luigi Amato. È accusato di tentato omicidio. La vittima, un uomo di 72 anni, è in ospedale sotto osservazione. La polizia sta ricostruendo ora la dinamica dei fatti e sembra essere ben lontana da quella che si era immaginata immediatamente dopo il fatto di sangue. Non è stata comunque una rapina. Tutto sarebbe dovuto a vecchi screzzi tra i due vicini di casa e forse anche problemi di soldi. Tra i due già in passato ci sarebbero state tensioni e litigi anche per motivi banali dovuti proprio al vicinato. E lunedì mattina l'epilogo di una storia che soltanto oggi, con l'arresto di Baldo, prende forma e probabilmente va completamente riscritta. Siamo nella Piana del Sele. Battipallia dice basta. E venerdì 6 dicembre, a partire dalle ore 9, scende in piazza. E dopo l'annuncio della sindaca cecilia francese di non prendere parte alla manifestazione, i comitati chiedono alla prima cittadina di chiudere stir dopo i rilievi effettuati dai vigili del fuoco. La sindaca, se vuole davvero fare la guerra alla provincia di Salerno, può chiudere lo stir. A rendere fattibile l'azione amministrativa ci sarebbe il verbale del sopralluogo effettuato lo scorso 7 ottobre dai vigili del fuoco di Salerno nello stabilimento della zona industriale battipagliese che pone l'accento su varie criticità sulla sicurezza dei rifiuti contenuti all'interno dell'impianto. L'assist alla sindaca cecilia francese è fornito dal comitato e associazioni Battipaglia dice no civicamente cittade che nel pomeriggio di ieri hanno reso pubblico il verbale redatto dai caschi rossi dopo la visita nel sito gestito da Eco Ambiente Salerno, società in house della provincia. Ad emergere sarebbero violazioni nel rispetto delle norme antincendio, l'intento di comitati e associazioni andare incontro alle richieste di supporto formulate dalla sindaca che ha già annunciato di voler portare avanti atti concreti e istituzionali mentre la città si prepara la mobilitazione popolare di venerdì mattina 6 dicembre alle ore 9 in piazza Mendola per dire basta al carico dei rifiuti, ai miasmi e sollecitare interventi a tutela dell'ambiente e della salute e a presentarsi all'appuntamento e anche la nascente associazione Battipaglia Terra Madre. Il nome Battipaglia Terra Madre è evocativo del fatto che noi ci vogliamo riportare alle radici agricole di questo territorio e alle radici di questa protesta quindi noi chiediamo le immediate bonifiche di tutte le discariche che sono state promesse da anni chiediamo lo stop alla costruzione del nuovo impianto di compostaggio nel TMB di Battipaglia lo stop ai miasmi e nel rispetto della spiccata vocazione agricola del territorio la dichiarazione di divieto di attività incompatibili con la revisione delle autorizzazioni concesse a tutte le imprese che attualmente lavorano rifiuti sul territorio di Battipaglia rendendo attualmente la situazione invivibile e esasperando i cittadini quotidianamente. Noi saremo presenti ovviamente il 6 dicembre e continueremo a portare avanti la nostra lotta anche dopo e facciamo un appello a tutte le associazioni per raggiungerci sotto questo ombrello. La seconda parte dell'informazione di TV Oggi Salerno ci spostiamo nel Vallo di Diano il comune di Sant'Arsenio si prepara all'inverno precettati addirittura mezzi privati in caso di neve c'è addirittura un avviso pubblico. Sant'Arsenio si prepara ad affrontare al meglio l'inverno le previsioni meteo con uno sguardo sul lungo periodo parlano di una stagione con temperature sopra la media nel mese di dicembre e di un mese di gennaio anomalo ci saranno correnti più fredde ma secondo le ultime proiezioni stagionali ufficiali si tratterà di sorprese bianche molto veloci è importante essere preparati a tutto e a Sant'Arsenio si stanno organizzando per tempo a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza derivanti da condizioni climatiche avverse come possono essere la formazione di ghiaccio e la neve è fondamentale essere attrezzati per ridurre al minimo i disagi per la popolazione e nei giorni scorsi è stato pubblicato un avviso per invitare i cittadini in possesso di mezzi e strumenti idonei a metterli a disposizione dell'ente in caso di nevicate o gelate con lo scopo prioritario di mettere in sicurezza la rete viaria del territorio comunale il comune retto da donato pica sta disponendo quindi un servizio strutturato su una rete di privati anche imprese che garantiranno la disponibilità dei propri mezzi solidarietà senso civico e organizzazione le parole d'ordine in vista dell'inverno il comune si legge nell'avviso ha bisogno in particolare di fuoristrada autocarri macchine agricole macchine operatrici lame sgombra neve spargi sale un autoparco da poter considerare utilizzabile in caso di emergenza per effettuare le classiche operazioni di spargimento di sale e sgombero neve chiunque sia interessato si legge nell'avviso può presentare istanza al protocollo dell'ente mediante l'apposita scheda con descrizione dell'attrezzatura entro il 16 dicembre è il momento della pagina degli appuntamenti curata come sempre dalla nostra collega barbara albero va bene ora ti darò un bacetto ma non farsi illusioni cine forum al cinema teatro san demetrio di via dal mazio a salerno dove quest'oggi è in programma il film io leonardo con luca argentero tra gli spettacoli alle ore 17 alle 19 30 e alle 22 ingresso intero 6 euro ridotto 5 euro per informazioni 089 22 04 89 www cineteatro san demetrio.it si festeggia al centro commerciale le cotoniere di fratte sabato 7 dicembre pomeriggio di festa in occasione del terzo anniversario dalla nascita del centro commerciale di via dei greci il taglio della torta gigante ed ospiti speciali tosca da quino e fabio fulco tante novità imperdibili e tanto divertimento centro commerciale le cotoniere di fratte in via dei greci natale all'insegna della famiglia delle tradizioni della solidarietà quello in programma fino al 19 gennaio a baronissi per la sesta edizione di luci dell'irno costellazione infinite promossa dal comune di baronissi cofinanziata dal poco turismo campanio novità di grande suggestione l'installazione del presepe dipinto del maestro carotenuto in villa comunale sempre visitabile fitto il programma di eventi con oltre 30 spettacoli in aula consigliare a palazzo di città nelle chiese in tutte le frazioni presepi viventi dal 7 al 21 dicembre laboratori presepiali andiamo ti divertirai te lo prometto è il momento delle previsioni meteorologiche poi lo spot e lo sport in collaborazione con per te che sei sempre attenta a ciò che porti in tavola todis la spesa di qualità prezzi convenienti con i suoi reparti freschi todis e garanzia di bontà e genuinità ortofrutta salumeria gastronomia macelleria è un vasto assortimento di prodotti bio senza glutine senza lattosio vegani e vegetariani a salerno in via roberto volpe zona sante ostacchio a nocera inferiore via nicola bruni grimaldi 37 nei pressi della stazione ferroviaria grande concorso todis dall 11 novembre all'otto dicembre ogni 20 euro di spesa ricevi alle casse un biglietto gratta e vinci e puoi vincere subito a buoni sconto da 5 a 20 euro inoltre partecipi alla maxi estrazione finale di grandi premi puoi vincere una smart e fino al primo dicembre arance navel 2 kg 1 euro e 50 centesimi a rete spalla di agnello 6 euro e 90 centesimi al chilo spec del cadore 99 centesimi letto previsioni per domani al mattino sulle coste nubi e schiarite con possibili piovaschi in montagna cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita nel pomeriggio sulle coste schiarite alternate a nubi sparse in montagna cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita previsioni del tempo fornite da 3b meteo ieri sera il cittadella è stato eliminato allo stadio artemio franchi dalla fiorentina con un secco 2 a 0 nel quarto turno di coppa italia i granata veneti allenati da venturato hanno distato comunque un'ottima impressione nonostante l'ampio turnover ad operato dal tecnico del cittadella sabato prossimo ventura proverà ad infrangere il tabù del tombolato il tecnico ligure alle prese con vari dubbi di formazione prima gli infortuni poi l'influenza in casa ganata l'infermeria continua ad essere piena giannetti firenze gli erosischi sono stati messi cappò da un virus influenzale in occasione della gara con l'ascoli e subito dopo è toccato a care dodger in vista della gara di cittadella dovrebbero essere comunque tutti a disposizione in quanto i calciatori infortunati in ritardo di condizione resta da capire se cerci anche per la prossima partita verrà inserito nella lista dei convocati erto e gigi che resteranno ancora fuori anche se il polacco ha ripreso ad allenarsi con la squadra prima o poi si spera ci sarà occasione di vederlo in campo in compenso c'è anche qualche rientro per ventura che ritrova migliorini dopo la squalifica il centrale Xiu e Stabia sarà in vallottaggio con Billong per guidare la difesa in mediana sono scontate le conferme di Akpai di Tacchio per il resto ventura ha diversi dubbi chi ne sta attraversando una fase di involuzione nella quale forse sta avendo un peso anche il cambio di ruolo il tecnico ligure non è più così convinto di schierare il marocchino sulla fascia perché teme di concedere troppo in fase difensiva tant'è che Lopez sta trovando sempre più spazio nonostante non rientrasse nei piani di ventura in estate ripescato il difensore Uruguagio ora in mediana c'è tanto traffico al centro perché il ruolo di mezza alla sinistra corrono in tre Chine, Maestro e Firenze sulla corsia destra Lombardi dovrebbe essere preferito ancora Cicerelli in attacco regna l'incertezza più totale nessuna delle punte a disposizione sembra godere di un grande momento di forma e Ventura valuterà in settimana le scelte da effettuare Bentornati, la pagina sportiva parliamo di basket, palla, spicchi la Virtus Arechi Salerno è tornata al successo nel campionato di Serie B Old Wild West domenica scorsa battendo nettamente asfaltando la Stella Azzurra di Roma ed ora pensa a ritrovare la vetta della classifica in trasferta sperando naturalmente in un passo falso della palestrina ma dovrà certamente provare a ritrovare la retta via lontano dalle mura amiche nei pensieri del team salernitano c'è già la trasferta di scauri ascoltiamo i due punti sono fondamentali sia per loro che per noi quindi andremo con l'ascia di guerra e andremo a prenderci questi due punti perché sono fondamentali per rincorrere palestrina che è avanti a noi quindi non dobbiamo guardare gli avversari ma soprattutto il lavoro che riguarda noi quindi mettere energia, mettere difesa e poi giocare come sappiamo ti faccio un'ultima domanda Alessandro dandoti una notizia in anteprima sei l'NVP dell'undesimo turno del campionato di Serie B Old Wild West per i tifosi della Virtus Arechi Salerno quindi complimenti credo sia la tua seconda o terza volta tra l'altro quindi davvero complimenti a proposito di MVP insomma a proposito di essere ormai integrato nei meccanismi della squadra la sensazione è che partita dopo partita sei sempre un elemento più importante per questa squadra e quindi dando un contributo davvero rilevante alla causa virtustina mi fa piacere sono davvero contento però penso che faccia ancora più piacere il fatto che giochiamo tutti insieme che ci sono davvero diversi terminali giochiamo insieme, ci divertiamo segniamo un po' tutti quindi ci distribuiamo i minuti e siamo una squadra sempre più compatta e spero che andando avanti la cosa si possa amalgamare sempre meglio bene, era questa l'ultima notizia l'informazione di TV Oggia ritorna alle prossime edizioni buon proseguimento con il palinsesto e la programmazione della nostra emittente grazie come sempre per averci preferito vuoi rivedere questo programma? visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand